Gli operatori ambulanti toscani tirano un sospiro di sollievo. La direttiva Bolkinstein non rappresenta più una minaccia per il loro futuro. Grazie al protocollo di intesa sottoscritto a fine 2013 da Regione Toscana, Anci e Associazioni di Categoria, sono stati introdotti alcuni criteri che salvaguardano gli operatori con anzianità nell'assegnazione di posteggi in fiere e mercati. Altrimenti, per effetto della direttiva comunitaria, nel 2017 tutti i posteggi sarebbero stati rimessi in bando. E il pericolo, neppure troppo lontano, era di vederli assorbiti tutti da grandi imprese, soprattutto straniere, a discapito della libera concorrenza e dell'interesse di operatori e consumatori. A scongiurare questo rischio monopolio sono intervenute nello specifico alcune norme contenute nel protocollo di intesa. Una società di capitale non può avere più di due posteggi nei mercati sotto i 100 banchi e non più di tre in quelli sopra i 100 banchi. In più, ad aumentare i punteggi nella graduatoria per le concessioni dei posteggi, sono stati inseriti criteri come professionalità e anzianità della presenza degli operatori all'interno delle fiere e dei mercati.